GF VIP, Antonella Fiordelisi disperata per la squalifica di Non ce la faccio senza di te. Una puntata inaspettatamente difficile per Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria che dopo sei mesi insieme si sono dovuti separare a causa dell'improvvisa squalifica del Geffino che è stato punito per i comportamenti adottati in questi ultimi giorni. Sebbene Alfonso Signorini nella scorsa puntata abbia cercato di mettere i concorrenti in guardia rispetto ad una nuova linea da adottare nella casa. La squalifica di Edoardo Donnamaria, quindi, arriva come un fulmini a ciel sereno per la coppia dei reality che, dopo tanti alti e bassi, litigate e rappacificazioni, è riuscita a portare avanti una storia d'amore seppur tormentata. Il provvedimento del grande fratello getta la Geffina nello sconforto, è colpa mia. Se non avessi detto niente non sarebbe successo dice tra le lacrime prima ancora di poterlo incontrare il suo fidanzato. Una volta entrata nella Misteri Room i due si abbracciano e si baciano, Antonella tra le lacrime farfuglia frasi disperate, mi sento a metà. Mi manca l'aria, non ce la faccio senza di te il Geffino, tenendo il viso tra le mani le dice, ma certo che ce la fai. Te l'avevo detto che ti sei innamorata di un cretino. Il Geffino, però, abbracciando e baciando la sua fidanzata cerca di rassicurarla dicendole, tanto io vado a casa. Mica in guerra. Ti ho lasciato un posto in finale, l'ho fatto per te. Ora devi vincere per forza. Interviene dallo studio Alfonso Signorini ad interrompere l'idillo tra i due, soffermandosi su una frase di Edoardo che però, aggiunge alle parole del conduttore, per me l'obiettivo non era andare in finale. Ma uscire con Antonella, e almeno anche se non è il modo migliore di uscire, siamo in un periodo buono. Il Geffino, quindi, fa il suo rientro in casa salutando gli altri inquilini che, ovviamente, non riescono a trattenere la commotione. Grafferul din tot, o toți msicu care am crescut, pe scurt, de la un pui salbatic avestu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar avestu. Tre' să depășesc plutonul cu fiecare text pe, mafia, parasiții, dragonu, maxi, ghespe, chimie, rimaru, spike, puia, si, shwapo, grasu, nimeni altu, delvede, sau carpo. Tre' să vă mănânci vers cu vers card intens, tre' să crezi, crezi, ce vrei să crezi, eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor, de zici că mă barc cu boss-ul, la cât de urât sunt, cum să vă iau cu frumos-ul? Metafore, iperbole, le obțin prin alchimie, când adun cuvinte din domn, mă pun, le pierd la o mie de grade Celsius, să rămână spus și să te știe, nu-i nimeni cel mai bun, dar evoluează cel ce vrea să fie unul.